Io penso sempre a bene comunque sia collettivo, io penso sempre a fare il mio e oggi c'è fortunatamente andata bene. Cioè dispiace perché potremmo vincere perché abbiamo fatto secondo me il primo tempo mezz'ora solo noi. Però purtroppo il calcio è anche questo, quindi prendiamoci questo punto e andiamo avanti. Dobbiamo sicuramente migliorare su questo, questo qua è scontato. Ma siamo andati a fine primo tempo che abbiamo sofferto un po' un quarto d'ora all'ultimo del primo tempo. Però purtroppo c'è il calcio è anche questo, mentalmente il ricorre comunque sia sbagliato, c'è un po' tagliato le gambe mentalmente, però il calcio è questo. Ma secondo me alla fine quando c'hai 23 anni e c'hai 26 non è che conta questo. Secondo me noi comunque siamo riusciti a reagire bene, c'è il secondo tempo tranne secondo me gli ultimi 10 minuti, però alla fine c'è, alla fine secondo me c'è andata bene. Quindi non so, c'è esperienza secondo me non è che conta tanto, alla fine non è che siamo comunque ragazzini secondo me. Grazie per la visione!